... Sunny? Mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole. Diciamo che offro delle possibilità. Voglio essere più bella. Io voglio che mio marito torni a casa. Una notte, una notte intera con lei. Io le darò un compito e se lo porterà a termine avrà quello che ha chiesto. Mi dica cosa devo fare. Più una cosa del genere non la farò mai. Ma perché ti chiedi cose così orrende, tu? Perché c'è chi è disposto a farle. Sunny? Voglio i dettagli. Abbiamo fatto l'amore. Pensi di rinunciare? Non ho avuto un'idea. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. Dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità. Io ho quasi ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te. Ricordatelo sempre. Obblivi a tutti quelli che vengono qui a fare del male. No, solo alcuni. Sei un mostro. Diciamo che ho da mangiare ai mostri. C'è qualcosa di terribile in ognuno di noi. Chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato. Il nostro corso è un mostro. Slu cazare alla prossima. Slu cazare alla prossima. Slu cazare alla prossima. Grazie a tutti